buongiorno a tutti oggi è martedì 13 aprile e parliamo di analisi ciclica evoluta su dax e fuzzimi come di consueto avevo segnalato una piccola divergenza rialzista e ieri abbiamo fatto la nostra candelina di risalita eccola qua nulla di particolare abbiamo avuto la violazione dello swing che vi dicevo del massimo a 24.515 non sono seguiti volumi particolari per cui adesso stiamo vedendo quando avrà voglia di chiudere e se da qui vorrà partire un settimanale in questo momento su questo minimo siamo arrivati a 33 barre quindi oltre le 24 classiche e quindi bisogna vedere se oltre la prima condizione dunque qui è 512 515 ok perfetto oltre la prima condizione dello swing seguiranno anche t-5 a lateral rialzo e successivamente potremo valutare effettivamente se andare long anche perché abbiamo una quantità fortunatamente di riferimenti di massimo che sono interessanti e anche per il fatto che se coniughiamo l'indice al nostro inverso se anche questa fosse l'ipotesi dovremmo tornare sopra questo massimo a 24.577 e siamo a 34 35 barre se invece il quinto t-3 inverso fosse partito da questo massimo in violazione dello stesso e entro le 20 barre potremmo valutare sempre un long se no dobbiamo aspettare la partenza come in questo caso appunto di un nuovo movimento a ribasso per poi un altro anellino tra virgolette un altro t-5 inverso per poi appunto con il vincolo a rialzo sul massimo potremmo andare appunto long viceversa non ci muoveremo come al solito potete notare che l'analisi ciclica è molto fluida l'evoluta vi permette di capire immediatamente se ha senso andare long oppure se non ha più senso per cui qualunque cosa possa fare il mercato con dei punti di riferimento come gli swing voi avete la possibilità insieme ai volumi e livelli di algoritmo che do e che mi segue di avere tutti i riferimenti per fare trading durante la giornata ed eventualmente se le cose non vanno come devono o di chiudere prima un trade prima di farsi più male oppure semplicemente di utilizzando sempre stop loss e take profit di evitare il peggio il mercato è meglio che non ci venga mai conto soprattutto in quest'ultimo periodo da qui faccio registrare soltanto il fatto che per ora abbiamo quasi un team verso completo di spinta ovvero non abbiamo mai aggiornato questo massimo peraltro lo potete anche vedere qui e abbiamo che il tp2 inverso iniziato su questo massimo il 15 di febbraio ed è arrivato appunto a 34 barre se ne volessimo eventualmente aggiungere ancora 5 va a 39 per arrivare a 43 ok potrebbe risfruttare ancora 4 giorni teoricamente di rialzo per tornare sopra questo massimo a 24.939 e rimanere sempre un tp2 inverso peraltro marchiato così ok in azzurro in blu quindi sapete che cosa vuol dire per quanto riguarda invece il nostro t più 3 qui abbiamo che oltre all'accentratura proposta mi è stato fatto notare che effettivamente si può utilizzare anche questa in alternativa ovvero un primo t più 2 mensile quindi da 39 barre con una chiusura corretta e da qui può essere partito effettivamente il secondo t più 2 questo è importante tenerlo in una parte del cervello non è fondamentale per il fatto che adesso ci interessa vedere quali swing e swing inversi verranno violati per cui qui abbiamo già avuto la violazione di questo che era importante è questo ma se non seguiranno come al solito volumi verremo rispediti verso l'alto come vi dicevo prima per quanto riguarda il dax ieri giornata veramente straziante dalla noia abbiamo quasi fatto un inside completa della prima candela quindi sono giornate da evitare sui mercati quando inizio a vedere che dopo le prime due candele quasi tutte le altre rimangono contenute all'interno lascio perdere infatti guardate siamo praticamente rimasti all'interno delle prime due per tutto il resto della giornata con l'attenzione che anche in questo caso qui abbiamo un quinto t inverso o un nuovo t inverso che ha un massimo di partenza che non è mai stato violato quindi punto di attenzione a questo il 15.311 con in stato molto più avanzato un nuovo t io ho segnalato per prudenza un t-1 ma è un t che è partito e che non ha diciamo altre possibilità a livello di centratura per cui caspita stiamo provando a fare un settimanale e se per caso appunto non riuscissimo a ritornare qui sopra come è possibile serenamente appunto che facciano ricordiamoci che quest'altro punto il minimo 15.144 è quello che ci permetterà di capire se si vorrà vincolare il ribasso perché se faccio un'ipotesi assurda una candela rossa ci portasse qui sotto e fossimo soltanto al terzo t settimanale terzo t giornaliero sapremo che per altri t-3 giornaliero sapremo che per altri 3 t-3 quindi 6 t-3 minimi continueremo ad aggiornare i minimi per cui sono tutte informazioni temporali che non potete avere con analisi tecnica con le candele giapponesi con i trend e tutto quello che volete prendervi da parte queste sono informazioni sul tempo e sui volumi che potete avere solo con l'analisi ciclica evoluta ultimo analisi anche in questo caso non siamo andati sopra questo massimo a 15.311 per appunto 4 giorni a seguire 4 candele vediamo che cosa non voglio appunto di fare perché siamo davvero di nuovo su un punto che poi ci può riportare ancora in alto e può chiudere di nuovo appunto un mensile inverso per poi finalmente far partire questo benedetto chiusura di annuale non soltanto inverso che sta ancora chiudendo ma appunto di indice e quindi discesa con proiezioni semplici da fare ancora una volta vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata arrivederci